si chiama foggia in bici l'iniziativa del comune per incentivare i concittadini ad usare questo mezzo fantastico ed ecologico come si dice meglio una bici oggi che ne pensa delle piste ciclabili qui a fuori credo che stiano funzionando bene per quelle poche volte che prendo la bicicletta il comune sta incentivando i suoi cittadini con cittadini a utilizzare bici e non andare a piedi lei è uno sportivo cosa ne pensa secondo me è un'ottima è un'ottima scelta prendere la bicicletta camminare a piedi fa bene cioè fa bene alla salute lei andrebbe anche al lavoro con la bici ma non posso perché perché sto fermo da quasi un anno come si dice meglio una bici oggi non so che a dirti nemmeno io era bello per dire così grazie che adesso che non si può fare niente almeno un giro in bici con la pista ciclabile si può fare meglio la pista ciclabile può andare a correre entrambi un modo un ottimo modo per uscire soprattutto in queste giornate che c'è il sole dovete essere oneste ma sulla bici si acciaffa cioè tu sulla bici hai mai si devi scendere per poter sulla bici è un po difficile difficile risulta un po complicato poi dipende dalla posizione come ti metti quella è un'altra cosa non è un video vietato non dice c'è la posizione è un'altra cosa però la posizione sulla bici alla posizione sulla bici ok ma doveva bellezza in bicicletta però è stato bravo lo stesso le piace andare in bici qui a foggia no perché perché le strade sono tutte disestate quindi non ci rimette un sacco di soldi di raggi vabbè sono disestate ma vuoi in primavera estate ah no disestate disestate e le macchine a volte non ti vedono neanche o se ne dimenticano che stanno che c'è la pista ciclabile quindi non ci fanno caso e rischi di essere investiti comunque se ti fate attenzione perché chi va in bicicletta è come andare in macchina bisogna fare attenzione e guardare altrimenti c'è l'ambulanza dietro che già c'è riserto certo certo le piace la pista ciclabile? sì 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 speriamo di diventare come Modena come tutti i paesi che usano la bici sul serio queste nuove piste ciclabili sono efficaci o no? se vengono rispettate sì solo che molte volte si ingappa in situazioni spiacevoli da parte degli automobilisti che non le rispettano nell'incrocio e invece i ciclisti le rispettano non tutti vuole dare un consiglio al sindaco Landella visto che è un ciclista dall'alto del suo sellino della bicicletta? è che queste piste ciclabili così come sono state fatte non si avrà un tubo perché? non vanno bene non vanno bene in una città come Foggia non va bene non vanno bene lei le farebbe come? no non le fa di proprio ma dove vai?